Buonasera, allora io sono appena tornato da fuori, ero fuori per lavoro come molti di voi già sanno e non era lo stadio oggi. Guardate, ho visto alcune parti della partita, ho parlato con gli artifici della partita e va bene, ok. L'unica cosa chiara che sicuramente condividiamo tutti è che il rigore c'era, non è stato visto. Questo può succedere che ci siano anche degli errori arbitrali, non possiamo farne un dramma, era solo il sedicesimo minuto e certamente non è stato un episodio divertente. So anche tutto quello che voi pensate su tutti gli altri, ma noi dobbiamo pensare ai fatti nostri e quindi quel rigore c'era, è palese per tutti, è evidente, siamo stati puniti perché non lo abbiamo. Però non ne faremo una tragedia e con più calma parleremo della giornata invece di oggi, che secondo me non è andata così male. E ora vorrei chiarirvi perché ho detto che poi le cose non sono andate così male. Certamente non sono soddisfatto del fatto che chi era dietro ci ha raggiunto e chi stava avanti è andato ancora più avanti e chi stava con noi se n'è andato. Non è una bella cosa, però mancano ancora 14 partite e delle volte dobbiamo essere anche degli strateghi, non possiamo sempre andare avanti a testate. Avevamo persone diffidate che forse non avrebbero fatto partite ben più importanti. Abbiamo giocato con un centrocampo tutto rimaneggiato, si è fatto male Damiana. Insomma, molti di noi avevano paura di non poter partecipare al proseguo del campionato. Oggi Gallo è stato giusto, ha tentato il colpaccio negli ultimi minuti, non gli è riuscito. Ci sta, è una partita che dobbiamo prendere così. Continuiamo a essere compatti, coesi e sereni. Perché vedete che è ancora lungo il campionato e io non mancherò più. Quindi, morale della favola, mettiamo da parte la rabbia, lo stress, dobbiamo rilassarci. Domani tutti andiamo a lavoro, per chi è fortunato. Chi poi il lavoro non ce l'ha, domani andrà a cercarselo. Quindi cerchiamo di farci questa serata sereni. Non siamo ancora al tubo del gas. Anzi, io ve lo ripeto, credo che oggi, per la partita che abbiamo dovuto fare, le cose non sono andate così male. Guardiamo il lato positivo. Abbiamo preso zero gol e sta diventando una buona abitudine per questa squadra. E non è un dettaglio, guardate, perché la squadra che avevamo fino a poco tempo fa, cioè la mentalità, ci avrebbe fatto finire la partita con almeno un gol preso. Forse ne avremmo fatto anche noi uno, ma così non va male. Dormiamoci sereni. Scusatemi per la stanchezza. Buonanotte a tutti e scusatemi anche per le persone che mi hanno scritto in privato, alle quali non ho risposto, non ho avuto tempo. Buonanotte a tutti.